do il benvenuto al direttore generale di fillombarda giovanni rallo buonasera a tutti grazie dell'invito grazie a lei dunque dottor allo torniamo a parlare di ucraina le ripercussioni economiche della crisi sono sotto gli occhi di tutti e si stanno già facendo sentire in molti ambiti ecco naturalmente l'imprenditoria italiana ne sta risentendo passi pensare un po al gap di approvvigionamenti di materie prime si parla di problematiche per la manifattura italiana che riguardano non soltanto questo momento ma che possono riguardare anche soprattutto il medio lungo periodo ecco in questo momento complesso e il rischio quello che si accentua in un po le debolezze del nostro modello economico le chiedo se può darci una panoramica della situazione di finanziamento alle imprese nel nostro paese sì allora il contesto il quadro che si sta delineando certamente pone degli elementi di complessità da un punto di vista direi lato import lato export e lato modalità di finanziamento delle pmi e questo rischiando di diciamo acuire quelle che sono alcune debolezze del nostro sistema economico che poi di fatto vanno a impattare sul sistema imprenditoriale e diciamo che allora il primo impatto se noi pensiamo ai due stati principalmente coinvolti il loro pil è in buona sostanza generato dal esportazione di materie prime e questo evento si è andato a seguire a diciamo la coda della crisi e a ciò che stavamo già vivendo verso la fine del 2021 in termini di aumenti delle materie prime dell'energia eccetera abbiamo si possono citare tre casi noi abbiamo vissuto stiamo vivendo un aumento delle reputazioni del grano o del 20 per cento questo ha detto anche di questa preoccupazione no per tutto il settore agro industriale in passato diciamo che il mondo e settore ha dovuto subire mettiamola subito comunque stato caratterizzato da un aumento del dei prezzi e soprattutto legato anche a bassi compensi che venivano riconosciuti e vengono riconosciuti agli agricoltori e questi ultimi sono stati costretti negli ultimi decenni a ridurre la loro capacità produttiva in termini per esempio di mais di circa un terzo poi abbiamo lo shock energetico che ha la luce agli occhi di tutti e possiamo anche aggiungere il salto il balzo alle stelle del prezzo del nickel indispensabile per il settore siderurgico a questi eventi che diciamo sono più lato import non dobbiamo dimenticare anche impatti sull'export è vero che in termini dimensionali se paragonate all'input il fenomeno è molto minore però certo alcuni settori diciamo del made in italy e in principal modo il lusso la moda con differenti impatti anche a livello geografico all'interno del nostro territorio dove per esempio la lombardia sicuramente ha un impatto negativo più forte rispetto ad altre regioni beh il sistema modo genera l'export verso quei paesi e ammonta a una cifra intorno miliardo e quattrocento a cui se aggiungiamo anche diciamo la 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 quota di ricavi derivanti dai viaggi per shopping la cifra totale arriva a raggiungere 1,6 miliardi quindi e il terzo elemento è come le imprese oggi si finanziano risulta un ulteriore elemento di complicazione il sistema bancario risulta esposto all'italiano verso la russia per circa una ventina di miliardi a cui si aggiungono altri 6 miliardi diciamo disposizione in diretta per garanzia il sistema bancario oggi ancor più che mai è chiamato a continuare a fare quello che sta facendo in modo direi fondamentale dallo scoppio della crisi e della pandemia dove oggi quindi non potrà che garantire un ulteriore supporto strategico al tessuto produttivo italiano l'outlook a b di marzo mostra che i crediti verso le imprese continuano ancora ad avere un segno positivo ancorché limitato a un 0.9 su base a questo dovrà questa situazione dovrà sempre diciamo far pensare a forme anche alternative di finanziamenti al di là del classico canale bancario no forme alternative dove per esempio possiamo citare i mini bon che nonostante la pandemia in questi ultimi due anni hanno visto una forte crescita di iniziative anche direi miste dove oltre al contributo del sistema finanziario sono state lanciate iniziative con il supporto anche della componente pubblica sia sotto forma di garanzie sia come interventi diretti in sottoscrizione a questo proposito anche filombada ha due prodotti attivi in questo anno un ulteriore punto da tenere presente è il costo del credito al costo del credito che sicuramente in presenza di un processo inflazionistico così significativo ebbene ci fa presumere che anche un aumento del costo dei finanziamenti sia effettivamente dietro questo un po un quadro della situazione generale è una situazione che ovviamente a poche a molte ombre poche luci e sicuramente le aziende da sole in questa fase non ce la possono fare no devono per forza avere il supporto delle istituzioni e qui probabilmente per la risoluzione a partire dall'europa chiaro ecco a tal proposito nel frattempo la commissione europea ha adottato quello che è un quadro temporaneo di crisi che sarà operativo fino alla fine del 2022 che serve un po a consentire agli stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di stato proprio per sostenere l'economia nell'attuale contesto di crisi legato al conflitto russia ucraina ecco ce ne può parlare e allora la commissione europea lo scorso 23 marzo ha adottato un quadro temporaneo di crisi e garantendo quindi dando la possibilità agli stati membri di usare maggiore flessibilità in materie di aiuti di stato diciamo che possiamo dire che l'intervento della commissione europea è stato senza dubbio tempestivo perché sono riusciti a intervenire dopo che entro poche settimane dalla data dello scoppio del conflitto allora il quadro come hai detto sarà a validità fino alla fine del 22 certo oggi è prematuro dire se le risorse sono o saranno sufficienti eh beh innanzitutto le risorse per definizione sono sempre limitate quindi eh qualsiasi eh sia la loro dotazione ovviamente sono eh insufficienti per definizione due dipenderà molto dalla eh dalla durata eh del conflitto e quindi conseguentemente dei eh diciamo degli effetti negativi negativi che ci potere e porteremo dietro no a oggi abbiamo visto eh solo la parte iniziale che si è andata a unire a eh diciamo le criticità eh dei derivanti dalla eh dalla pandemia covid ehm unito a questo eh sicuramente le imprese eh dovranno fare i conti con un indebitamento generale eh più elevato rispetto al duemila eh e venti e sicuramente non non aiuterà eh la sospensione eh e venire meno delle delle moratorie. Ora ogni Stato eh dovrà recepire nel proprio ordinamento eh il quadro temporaneo di impresa e qui vedremo come eh verranno delineate le le condizioni di accesso eh a questi diciamo aiuti e soprattutto tra il il nesso che ci dovrà essere tra la eh l'attività della singola impresa con la crisi attuale quindi le due e la correlazione tra l'attività e il danno eh causato all'impresa della crisi attuale. Il quadro brevemente prevede tre interventi un intervento che si basa sugli aiuti di importo limitato qui abbiamo un importo che può arrivare fino a a quattrocentomila euro eh di contributo che può essere anche sotto forma eh di finanziamento a montare che è ridotto a trettacinque mila euro per i settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura anche qui probabilmente eh questi trettacinque mila euro sono oggi effettivamente eh sottodimensionati e due il secondo intervento è con la possibilità eh per gli Stati di intervenire sotto forma di sostegno attraverso eh il rilascio di garanzie o di regimi, istituire dei regimi di garanzie. Questi hanno diciamo due eh finalità e i regimi di garanzia e le garanzie rilasciate dal pubblico servono a stimolare e quindi facilitare l'accesso eh al credito e la concessione del credito e due eh servono anche oltre a facilitare l'accesso anche a poter garantire eh condizioni migliori eh per i beneficiari e quindi tassi sostanzialmente agevolati. Tutto questo eh sarà in funzione mh ci saranno dei limiti. I limiti saranno basati su una serie eh di fattori non potranno superare eh contributo non potrà superare il quindici per cento eh del fatturato. Poi ci sarà un altro elemento legato ai costi energetici cioè il massimo il cinquanta per cento dei costi sostenuti nei dodici mesi precedenti come pure in termini di far bisogno di liquidità del le pre tenere conto delle previsioni massime di liquidità nei dodici. Poi è stato previsto un terzo macro intervento che riguarda l'ambito del eh dell'energia e qui eh andrà a interessare principalmente le imprese eh energivore e avremo due due tipi di 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 intervento. Un intervento che eh avrà eh un limite diciamo eh in base all'ammissibilità eh dei costi quindi un trenta per cento dei costi emissibili. Quali sono i costi emissibili? Si sarà da calcolare la variazione maggiore del duecento per cento rispetto a eh ai costi del duemila e ventuno. Il tutto comunque con eh un limite massimo di due milioni. Per finire eh in caso o le aziende eh eh siano o mh la la crisi eh le porti anche a eh determinare risultati e in perdita. Qui ci potranno essere aiuti a favore delle singole imprese con due sottolimiti uno fino a un importo massimo di venticinque milioni un altro fino a un importo massimo di cinquanta milioni. Il primo a valere sulle eh imprese cosiddette come abbiamo detto energivore e il secondo invece a favore eh delle imprese che eh sono legate al mondo dell'idrogeno, di molti prodotti e chimici, della lavorazione eh del legno eh dei fertilizzanti e eh del dicembre. Direi che eh il quadro sul eh l'intervento pubblico eh della eh commissione si può assumere appunto in questi tre eh macro macro capitoli. Ripeto eh eh è da vedere se sarà sufficiente la proroga al 31 12 22 e se ovviamente eh il supporto eh sarà un supporto adeguato. Chiaro, certo. Ecco, già lo anticipava eh rimanendo sempre nel quadro di aiuti approvati eh dall'Unione Europea. Eh questi aiuti riguardano anche un argomento che è cruciale ovviamente in queste settimane non soltanto per l'imprenditoria che è appunto il quadro il caro energia. Eh mi chiedevo se secondo lei l'aiuto che ovviamente è temporaneo ehm avrà un effetto mitigatorio effettivamente e quale sarà? Allora eh l'aiuto è fondamentale eh per intervenire nel medio del breve termine no? Eh le imprese eh i conti economici soprattutto delle imprese eh saranno impattate eh da eh i maggiori costi che ovviamente eh difficilmente possono essere eh traslati sul eh sul beneficiario o sul consumatore eh finale e qui i settori che ne saranno più colpiti saranno i settori a valle cioè quelli legati più ai beni di consumo che già diciamo vengono da una sofferenza eh della domanda complessiva. E altri settori ovviamente quelli che abbiamo citato più volte energivoli legati al cemento, ceramica, metallurgica, legno eccetera eccetera eccetera. Allora questo è un intervento tampone possiamo chiamarlo no? Qui purtroppo bisogna purtroppo o per fortuna se vogliamo vedere eh il lato positivo della medaglia come eh possiamo fare un'analogia come eh la pandemia ci ha eh ci ha portato tutti a essere più smart in senso di tipologia di di lavoro un esempio no? Quindi questo è diciamo uno degli effetti positivi se ne vogliamo trovare qui eh la speranza che per forza ormai è una scelta obbligata bisognerà accelerare su quello che eh non abbiamo fatto o abbiamo fatto in eh misura meno incisiva nel passato con degli interventi eh strutturali eh sul eh sistema diciamo eh energetico nel suo insieme che va sia da eh diverse mh diciamo provenienze e geopolitiche delle forniture ma come pure eh una maggiore diversificazione eh delle delle fonti stesse no? Eh e questo è qualcosa che non si potrà eh realizzare eh nel breve ma è qualcosa che richiederà eh del tempo. A questo proposito anche la programmazione comunitaria ventuno ventisette vede come uno dei suoi pilastri la eh diciamo tratteniamo una transizione ecologica e quindi la programmazione comunitaria eh che di fatto eh sono le risorse più significative a disposizione delle varie eh regioni italiane supporterà anche questo eh ulteriori investimenti in questo in questo ambito no? E ehm per dire lo stesso vale eh anche in regione Lombardia eh capitolo importante della programmazione sarà il eh cambiamento energetico e anche se pur parlando di una regione che nel contesto italiano probabilmente quella che in questi anni aveva fatto di più ma sicuramente gli interventi che e finanziamenti che e gli investimenti fatti non sono stati sicuramente eh sufficienti. Questo chiarissimo. Certo. Eh dunque dottorallo io la ringrazio per la sua partecipazione soprattutto per averci dato questo quadro molto chiaro su quella che la situazione imprenditoriale italiana in questo momento difficile di crisi che possiamo definire un po' crisi europea. Eh vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti lunedì 4 aprile alle 8.30 con Weekly Bell un aggiornamento sui mercati finanziari e giovedì 7 aprile alle 18.30 con una nuova puntata di Chiedi Lei Talents. Io ringrazio tutti gli spettatori che ci hanno seguito ringrazio nuovamente Giovanni Rallo direttore di Lombarda. Grazie a voi. Grazie dottor Rallo. Grazie. E vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.